Sono stati giorni intensi ad ANSI. Cittadina francese che da decenni ospita ogni anno il Festival Internazionale del Film d'Animazione. Quest'anno sono state presentate diverse novità che arriveranno più o meno presto sul piccolo e grande schermo come la nuova serie animata su Batman. Si tratta di uno dei progetti più attesi della Warner Bros. Animation. Perché sarà basato saliconica e amatissima serie del 1992 creata da Bruce Timm. Ovvero Batman. The Animated Series. Caped Crusader. Questo il nome dello show annunciato per qualche tempo. Onorerà il suo passato. Stando a quanto dichiarato da Peter Girardi della Major. Si metterà in diretta continuazione con la serie tra le più amate dai fan del personaggio di C. Dato che era trasmesso su un canale per bambini. Non poteva farlo. Tempi diversi. Destinazione diversa. Ora le cose possono cambiare. Questa serie sicuramente stravolge quella vecchia. È più una sorta di visione completa. Dietro Batman Caped Crusader ci sono alcuni grandi nomi del mondo del cinema e della tv. Si tratta infatti di Matt Reeve. Regista dei film con Robert Pattinson e il suo collega Ilunga Ilunga Abrams. Che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo essere stato scartato da HBO Max. La serie animata ha trovato un nuovo approdo su Amazon. Si tratta di una reinterpretazione della mitologia di Batman attraverso la lente visionaria dei produttori citati sopra e con loro ci sarà anche Bruce Thiem. L'animatore. Fumettista e sceneggiatore americano che insieme a Poldini, ha creato il DC Animated Universe. Si legge nella sinossi utilizzando tecniche di animazione all'avanguardia. Questa potente partnership creativa reinventerà ancora una volta Batman e la sua iconica galleria. Dei cattivi colpevoli con una narrazione sofisticata. Personaggi pieni di sfumature e intense sequenze d'azione. Il tutto ambientato in un mondo visivamente sorprendente. Al momento non è disponibile una data di uscita. Ma dovrebbe arrivare nel 2023. Fonte varietà.